Non mancano i riconoscimenti quando si lavora con attenzione, con convinzione e soprattutto con una squadra che a partire dai nostri produttori primari alla cantina, alla trasformazione dei prodotti, quindi non possiamo che avere risultati veramente soddisfacenti. Il riconoscimento viene in concorsi enologici internazionali, nello specifico abbiamo avuto il riconoscimento di quattro medaglie d'oro al Berliner Wine Trophy e al Mundus Vini, sempre in Germania, abbiamo avuto la medaglia d'oro con il primitivo Passo Lungo. Questo conferma che evidentemente stiamo lavorando bene e in questa direzione vogliamo andare. Le novità ulteriori partono da che cosa? Dalla consapevolezza di non poter prescindere dal problema, dall'aspetto della sostenibilità. Sostenibilità intesa come salvaguardia e tutela del territorio e come attenzione alla stessa salubilità delle nostre produzioni. Per essere tanto stanco significa che ho dovuto vivere con piacere la visita presso il nostro stand di tanti operatori e anche tanti esperti e professionisti della comunicazione. Questo significa che evidentemente la nostra verdina sta funzionando e speriamo che aumentino e continui anche nei prossimi giorni l'afflusso soprattutto di chi quotidianamente opera in questo settore.